Metto alcol Irpifferaio magico Vediamo se ci vede Bene, è un Oni E ha il seguitore letale Ma che vuole da me? Ma guardalo come mi tira dritto No, tira per K-Tank La drammaturgia lo uso subito No, ha già preso il primo hit, ma scherzi Beh, ho preso le... Ok Taglia il baffo grazie al follo, benvenuto per Serpentelli Spero che ti troverai bene qui con noi Quello è già andato giù Rippy Ma che cazzo Mazzica, la gente cringe Ma mi sa che non dovevo fare il save a sto punto Ma... Adesso non cesarmi? Ciao a te, buonasera Davvero hai aperto lì, pazzo maniaco? Sei un pazzo da aprire lì, zio A meno che non hai bambuso Dovevo anche riparare un gianno a che ci penso Ok, però Così questo rirezzozzo ben fatto Magari al 24 non ancora direste cose Non ti chiami più bugger, c'è di peggio Cazzo urli Eeeh Ho la urlo build Travi Dall'altra parte della mappa Quanti oni stasera? Loni a me piace trovare una contro È molto bello come killer da trovare Quanti oni hai? Ragazzi, chat Quanti anni avete? Avete detto un numero più di uno Io ho detto anni Vabbè, ti pare che devo urlare Non posso Oh no, mi hai fregato Ovvio che è bello se non ti prende mai Che vuol dire? Se bravo, non fatti prendere mai Ah ah ah, uno 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 Sembra di Timmy Turner No, non è vero Dai Timmy Turner non fa così Ma è serata, eh? E vabbè, che ci vuoi fa? Lasciali fare Ciao Arctic, buonasera A me sembra più Spongebob Ecco, già l'ho fatto Mi ha troppato il medikit Con una cassetta Vabbè, usiamo una cassetta Padre che stella Ve ne parlava per lei Ma smettia di urlare Kate Ma basta Ma basta Ma cosa urli ancora? Ma raga Quante volte ho urlato? Cinque volte? Ma che cazzo vuol dire? Quanta è la possibilità di riurlare? Qualcuno lo sa? Cazzo di parte di merda Che è la drammaturgia comunque Va di nuovo il potere Infinita volendo Eh, lo so Ma quant'è la percentuale Che fai? Tipo 10% 20% Bellissimo Ma esistono ancora le giostre Boh Mi sa che è in pass Ed ecco di dolore Era barbecue Boh Viene diretto per me però Comperà il muro? No, ok Mi sa che è la doppia don di velocità Ma io perché sono ancora qua? Perché non mi levano al cazzo? Non ho idea Quelli di dare a irlo A certa gente Facciamo un raid a Mirabilandia? Propongo un raduna a Gardaland Ma anche no Ma la visual in terza persona Si può mettere anche sulla play? Che senso la visual in terza persona? Cosa mi intendi? La server è sempre in terza persona Ciao EF Buonasera caro Io vi tengo le borsa Ci dobbiamo fidare? Così non ti vediamo più Non ti vediamo più Sto laccando? Guarda la speed di oggetto della sessione Eh non te dico No ho preso il porca puttana Devo droppare il god Perché mi ha dato il Il vulnerabile Cioè ma vi sembra normale? Cazzo di perk di merda raga Che è Ah Drammaturgia Drammaturgia Mamma mia Ah guarda Se mi vuoi decisare Se non hai il noed Buonanotte che mi ripiglia qua Qua mi riesco a fare Tutti e tre i giri In teoria Forse solo con Bloodlust Mi raggiungo No forse mi raggiungo In realtà A fine di questo giro Solo perché Eh no Mi ha raggiunto prima invece Non ha noed Però era veloce Hanno aperto sta porta Non ancora Otte Non ha noed Ora lì che c'era Lui Vabbè Intanto ci curiamo Bip Mostra l'altro compagno Dov'è? Bella Un breakable Che ha fatto Ah io Fuck yes I'm out A me non me ne frega Cazzo Dovrebbe andare lei a salvare L'altra In teoria E se sfida Grazie a Asics Della donazione Gentilissimo caro Grazie di avere Oh Aspetta non parte Eccolo qua Easy Perdo sempre Vabbè È una build Da killer anche Ciao